Domani, mercoledì 23 marzo, alle ore 18.30, presso la Chiesa Cattedrale di Andria, in occasione della Messa Crismale, sarà celebrato in forma ufficiale il ringraziamento al Vescovo Monsignor Raffaele Calabro per il servizio episcopale che ha svolto nella Diocesi di Andria, Canosa e Minervino Murge, celebrazione che noi di Teledeon trasmetteremo in diretta. Sentiamo. La Messa del Crisma è davvero singolare nell'arco dell'anno liturgico, in quanto offre suggestioni per la ricchezza e la bellezza dei suoi riti, in particolare la benedizione degli oli. Oltre ai sacerdoti, religiosi, diaconi e seminaristi, saranno riuniti attorno al Vescovo Calabro rappresentanti di tutte le comunità parrocchiali e associazioni laicali, a significare l'unità della Chiesa diocesana. Saranno presenti anche le autorità pubbliche. L'occasione sarà pertanto propizia per esprimere a Calabro, con semplicità e cordialità, la gratitudine per il suo ministero episcopale. Nato a Minervino di Lecce il 10 luglio 1940 e ordinato sacerdote il 15 marzo 1964, Calabro è stato eletto Vescovo di Andria il 19 novembre 1988 ed è stato consacrato il 6 gennaio 1989 nella Basilica di San Pietro in Vaticano, dal sommo pontefice San Giovanni Paolo II. Ha iniziato il ministero episcopale nella Chiesa di Andria il 29 gennaio 1989, prima di essere nominato Vescovo ha svolto gran parte del suo ministero pastorale nel servizio diplomatico della Santa Sede, prima all'estero, nelle enunziature apostoliche del Brasile, Australia, Germania e poi in segreteria di Stato Consiglio per gli affari pubblici della Chiesa. Calabro, nell'ultimo numero del periodico diocesano insieme, ha affermato Più che fare il bilancio dei 27 anni trascorsi in Andria, che ha a che fare con i numeri, preferisco ricordare tanti volti di persone care, sia sacerdoti sia laici, che resteranno per sempre vivi nel mio cuore e nella mia mente. A queste persone mi sono sforzato di dare il meglio di me stesso, ma ho anche ricevuto tanto. L'attestazione che ho ricevuto e ricevo nelle varie comunità parrocchiali, nelle diverse celebrazioni liturgiche, mi commuovono e mi sorprendono sempre e mi fanno toccare con mano la bontà della gente comune e dei sacerdoti che le guidano.